Ciao amiche e amici, vi ricordate questo prodottino di History of VU che è un prodottino, è un gift set illuminante speciale per Pelléagé per tanto che Pelléagé vuol dire over 40 e che non capivo perché è tutto scritto in coreano allora ho accertato bene sul sito e ho capito cosa sono allora questo qui, l'ho scritto con un pennerello, è il tonico questo qui è il loro tonico, illuminante e ringiovanente, sta qui tonico e questo contiene perché le confezioni ingannano, possono essere uguali ma diverso il peso del prodotto questo 25 millilitri è il tonico, questo, scusate, quest'altro, inquadriamolo dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, eccoti qui questa è l'emulsione e sono, aspettate che guardo da vicino 25 millilitri, sì, in questo caso stessa confezione e stessa quantità ma non è detto poi invece confezione da 8 millilitri, questa è la loro essence qua, poi abbiamo questo piccolo piccolo un po' misterioso che non capivo che accidenti era il contorno occhi e poi ci sono e che sono 5 millilitri questo qui sono 8 millilitri e te non sembrerebbe però è così poi abbiamo questi altri due prodottini quindi questa è la crema viso, adesso ve la faccio vedere e il peso non lo trovo più comunque questa l'ho accertato, è la crema viso ok e questo l'ho altrettanto accertato sono 5 millilitri e l'olio viso eccolo qua, questo non c'è scritto millilitri, che strano evidentemente no ah sì che c'è, 10 millilitri ecco qua quindi questo è il set completo quindi ingannavano un po' le confezioni quindi abbiamo il tonico la l'emulsione poi abbiamo qui la essence ditemi che non sbaglio sì è la essence poi abbiamo la crema contorno occhi questo è l'olietto per il viso e questo qui l'ultimo, l'ultimo che vi dico è la crema viso li troveremo a parte il packaging bellissimo bello raffinato molto orientale che quindi non si buttano via queste confezioni era un chiarimento che vi volevo fare allora ve l'ho fatto con questo mini 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 videuzzo ok ah quanto costa? non ve l'ho detto ve lo metto scritto sotto ciao amiche amiche